Io trovo che il confine sia uno straordinario elemento che fa parte dell'essere, fa parte della vita umana, sappiamo che abbiamo un confine, che il confine a volte è invisibile ma è presente in continuazione, a volte è anche più drammatico, può essere divertente, può essere ironia, ogni manifestazione umana ha un suo rapporto con un confine, con un limite, con un cambiamento di pensiero, con un cambiamento di visione e questo nelle arti visive io lo trovo abbastanza interessante perché ti permette di capire dove tu puoi, fino a dove puoi spingerti, fino a dove puoi portare avanti il tuo pensiero, come si dice questa parola usata e abusata, la tua ricerca. Per quello che mi riguarda ho cercato di indagare, insomma continuo a vedere, a tentare di spostarlo, di allargarlo, di assottigliarlo, di far sì che questo confine a volte sparisca. Gli artisti da un certo punto di vista sono in questo senso anche le persone più libere, non importa gli artisti, insomma chi pratica, chi ha relazioni con la visione, chi fa il pittore, lo scultore, il performer, l'installatore, racchiudiamo tutto questo in una parola artistica che per me ha ancora un valore straordinario, cioè un artista che poi ho quello che riuscirà a restare, che sarà importante per gli altri, quello che non soltanto per se stessi. Credo che la stata più difficile, la stata più difficoltosa sia la semplicità, cioè quando si complica ci sono sempre tanti elementi, va sempre quasi sempre bene, ci sono tante cose, nel mio modo di vedere, nel mio modo di operare, nel mio modo di praticare io cerco di togliere, la mia ricerca, soprattutto plastica, ha dei limiti, mi sono imposto, dove accetto l'idea che ci sia un punto privilegiato di visione ad esempio, per cui gran parte del mio lavoro, nonostante che sia scultura, io dico che sia scultura, si muove su un livello bidimensionale, cerca di eliminare tutto quello che è superfluo, quello che non serve, quello che non funziona, a volte essere semplici, essenziali è molto più difficile che essere complicati e gran parte del mio lavoro appunto è nel togliere, nel cercare di far sì che una forma, uno spazio, un pensiero, un'azione diventi qualcosa di esemplare, non soltanto per te ma anche per chi, anche per gli altri e questo spesso lo faccio togliendo, non aggiungendo. Ci ho pensato molto prima di decidere che fare l'artista, diciamo fare l'artista, fare lo scultore fosse una ragione di vita e la parte principale della mia esistenza, tutta la mia esistenza è soltanto, gira intorno a questa finestra, a questo medium che è l'arte visiva, per cui io non riesco a guardare niente attraverso questo filtro autoimposto, un filtro che riguarda la storia dell'uomo, che attraverso le sue opere, attraverso la sua visione, attraverso soprattutto un punto privilegiato che appunto è quello visivo. Ho sempre cercato di avere un'azione, ho sempre cercato di trovare una reazione, per cui c'era un'azione e poi c'era la reazione, per cui nelle reazioni ho sempre stato, osservavo quello che era successo, osservavo perché, come, eccetera e così ho fatto anche con tutto quel lavoro che avevo svolto negli anni della mia formazione, quando avevo lo studio a 20 anni, fino verso i 24 anni, la decisione che quella era la mia vita, sarebbe stata la mia strada, non avrei potuto fare altro, l'ho presa intorno ai 24 anni, un bel pomeriggio di maggio, ho stato lì, ho guardato quello che facevo veramente con l'occhio distaccato, con qualcosa che non fosse mio, che fosse di qualcun altro e attraverso le mie esperienze, le mie conoscenze, la mia capacità di vedere le cose, insomma, l'avevo studiato abbastanza fino a quel momento, vedevo se c'era qualcosa che io, che questa azione rimandava e se ne valeva la pena, perché altrimenti avrei fatto un'altra cosa, cioè, insomma, facevo, avevo fatto anche tante altre cose, fotografie, avevo in teatro e tante altre cose così, e secondo me ce l'aveva, e da quel giorno siamo ancora qua che, alla ricerca di trovare qualcosa che ci meravigli e che possa meravigliare anche gli altri. Nel mio caso io osservo delle cose, per esempio esiste una specie di archeologia personale, per cui faccio delle azioni, prendo delle cose che mi interessano, cerco, diciamo che se dovessi cercare di trovare una formula che possa un po' sintetizzare quello che è il mio operato, io cerco di unificare degli opposti, cerco di mettere insieme due cose incompatibili, per cui cerco di mettere insieme l'acqua con l'olio, non so come dire, cerco di farli amalgamare, cerco di trovare qualcosa che sia qualcosa che metto insieme anche a volte delle cose anche molto difficili, che poi apparentemente magari resta il risultato, non so cos'è, non sono neanche io che devo giudicarlo. Usavo il gesso e poi ci andavo sopra con qualcosa di trasparente, completamente diverso che è l'acquerello, per cui che crea spessore, mentre creavo delle forme in gesso appunto plastiche, delle forme reali degli oggetti, che poi modificavo con il suo posto, con l'abellatura, con l'acquerello, con la stratificazione che dà il tempo, per cui queste due cose insieme creavano degli elementi che alcune sono diventate le opere. Questa pratica è durata per tanti anni, poi è finita nell'85, nell'85 non volevo essere legato a un medium, ma non volevo essere legato a qualcosa che da allora non mi ha più usato. Ho usato altri mezzi per esprimermi, ho usato il legno, ma lo brucio, uso il suo posto, quello che poi anche fisicamente lo distrugge, uso il piombo che è un metallo, ma è un metallo morbido, per cui ha una relazione con la luce. Cioè tutta questa, diciamo, se dovessi sintetizzare, probabilmente cercare di unificare gli opposti, cercare di eliminare i confini sarebbe una cosa. L'argomento della creazione, diciamo. Ad esempio esistono dei momenti, ma sono dei momenti personali, dove tu accumuli. sei, io passo gran parte del tempo dove ricevevo, proprio non ero capace neanche di fare una telefonata. In altri tempi con un dinamismo spaventoso, dove sembra che non hai il tempo neanche, non c'è neanche una frazione di secondo da perdere. Per cui, e poi ti accorgi che ci sono alcune cose che se vuoi continui a lavorare nella tua testa e a un certo punto riesci a vederle, perché molto spesso le cose ci circondano non riusciamo neanche a vederle, non riusciamo a apprezzarle. Spesso proiettiamo qualcosa, proiettiamo un nostro pensiero su quella idea. è difficile riuscire a comprendere, la conoscenza è molto più difficile, il conoscenza è molto più difficile di riconoscere. Sono un artista curioso, sono veramente ancora curioso, sono sempre più curioso, mi piace non vedere tutto, mi piace vedere i giovani, mi piace frequentarli, mi piace sapere perché trovo che scoprire delle cose è una cosa straordinaria e questo mi rende anche con le dovute fatiche, le dovute sofferenze, mi rende la vita fantastica perché conoscere, sapere, poter dare anche, io credo di aver avuto degli amici che mi hanno dato molto, io per quello che posso cerco di dare, perché è qualcosa che credo il mondo abbia bisogno, non perché io sia un buon samaritano, ma sicuramente perché questo è quello che mi piace fare. Credo che a un certo punto gli artisti non è che più dialogano tanto, però sono curioso, cioè nel senso che a me piace, a me diverte sempre parlare con gli artisti, mi piace discutere, mi piace avere dei rapporti, lo faccio più con i giovani che con quelli della mia generazione ultimamente. Devo dire anche in un senso per qualche aspetto anche egoistico, in un senso che mi diverte vedere un modo diverso di percepire il mondo, di percepire la realtà attraverso dei mezzi di comunicazioni completamente diversi, insomma, è interessante, ho avuto dei rapporti con degli artisti che mi raccontavano, era molto interessante perché io gli raccontavo la mia contemporaneità e loro mi raccontavano la loro contemporaneità, dato che c'erano 40 anni di differenza era veramente interessante perché poi tutto sommato il problema è quasi sempre lo stesso, cioè se in fondo tutti vogliono, cercano di aprire uno spiraglio e di allargare le proprie coscienze, di allargare la propria conoscenza sulla visione e questo trovo che sia importante.